Io ho sentito il Ministro stamattina, mi ha confermato la volontà di provvedere alla convocazione delle urne per il 20-21 settembre. È la giornata delle date e benché ancora non ci sia un decreto, per quello c'è tempo fino al 27 luglio, il Presidente Zaia inizia ad intravedere i nastri di partenza per la competizione regionale, cui poi bisognerà incastrare una data utile per l'apertura delle scuole. Consegna liste, deposito liste 20-21 agosto, inizio campagna elettorale quindi il 21 e poi pronti e via. Noi comunque siamo dell'idea di aprire le scuole, adesso faremo una riunione, ne parleremo, però penso che si andrà verso il 14. Non è una data ovviamente, ma una supposizione che il Presidente, che dovrà confrontarsi con l'assessore regionale Donazzan con la giusta dose di organizzazione, ipotizza possa permettere di far perdere agli studenti soltanto tre giorni di scuola, lasciando spazio ai seggi. Prendono in carico la scuola il sabato, allestimento seggi, domenica e lunedì si vota, martedì si dovrebbe sanificare, mercoledì aprire. Questo è il programma che immagino si possa mettere in piedi. Capitolo Giorgia Meloni che provocatoriamente questa mattina ha espresso la sua contrarietà nei confronti delle affermazioni del Presidente Zaia, che ha ricordato agli alleati che hanno confermato l'appoggio alla sua candidatura alle regionali e l'impegno per l'autonomia. Non ho offeso nessuno, mi spiace che qualcuno si senta offeso, però confermo tutta l'intervista e dico anche che chi vuole fare un percorso in Veneto la condivisione dell'autonomia non è un favore a me, ma lo deve fare ai Veneti, perché i Veneti vogliono l'autonomia. Tanto è vero che se non ricordo male l'intervista ho detto guardate che Fratelli d'Italia in Veneto ha votato l'autonomia. Forse non bisognerebbe leggere solo i titoli degli articoli. La leader di Fratelli d'Italia attacca, impegno per l'autonomia sì, ma in cambio quello per il presidenzialismo. Io non c'ho nulla con il presidenzialismo, io sono sempre stato eletto con il nome scritto figuratevi, penso che tutto quello che sia elegibile da parte del popolo vada bene.